Blizz antidroga in diversi centri dell'Agrigentino e in uno del Nisseno. Il personale della squadra mobile di Agrigento ha notificato 25 misure cautelari a indagati di Canicattica, Campobello di Licata, Licata e Gela, in esecuzione di un'ordinanza del GIP al Tribunale di Palermo su richiesta della DDA. L'inchiesta ha permesso di portare alla luce un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti in tutto il territorio agrigentino. In carcere sono finite 25 persone, di cui 14 di Licata, una di Canicattica e di Gela, due di Catania e due Campani. Inoltre una donna di Licata è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività investigativa è stata condotta nell'Interland licatese ed in particolare dell'agglomerato abitativo popolare noto come Bronx. Questa circostanza ha reso l'indagine particolarmente complessa e articolata nelle sue dinamiche, anche in ragione della conformazione topografica del quartiere, nonché dell'omertà che caratterizza l'area oggetto di indagine. E le indagini sono state avviate nei confronti di uno degli indagati che nell'ottobre del 2020, a distanza di soli due giorni, si era reso protagonista di due episodi caratterizzati dall'utilizzo di armi da fuoco, uno a Licata e una a Gela, nel quale l'indagata era rimasta vittima. Emergerà dalle indagini che, con la famiglia del suo aggressore gelese, il presunto capo dell'organizzazione licatese, avvierà un pactum sceleris finalizzato alla commercializzazione di stupefacenti. L'indagine ha permesso agli investigatori di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale, operante sul territorio di Licata, che aveva ramificazioni per l'approvvigionamento della droga anche nelle province limitrofe di Caltanissette e Catania, numerosi soggetti individuati quali assuntori di sostanze stupefacenti.